Eccoci ragazzi, buon lunedì, ci siamo, scusate il ritardo nel fare questo video post partita ma insomma, ormai ragazzi il valore appunto della gara era quello che era ma un Empoli che chiude in bellezza, chiude alla grandissima battendo 1-0 l'Atalanta fuori casa, Atalanta 0-1 con un gol nella ripresa di Sturaz un gran tiro da fuori Ara che batte in musso, un bellissimo gol quindi Empoli espugna lo stadio, il Gavis Stadium di Bergamo per 1-0 che chiude veramente in bellezza con 41 punti totali questa stagione 2021-2022 conclusa ovviamente con, si sapeva già da tempo con la permanenza in Serie A degli Azzurri che giocheranno appunto il prossimo campionato nella massima serie quindi insomma ragazzi sulla partita, insomma l'avete vista anche voi una partita non semplice, insomma contro un Atalanta che aveva appunto quell'obiettivo sono fuori appunto dall'Europa dopo tanti anni però un Empoli che ha fatto la sua partita ha insomma rispettato diciamo il campionato fino alla fine ragazzi, si è appunto impegnata fino alla fine l'Empoli quando appunto tutte le gare al massimo, cosa che insomma altre squadre sinceramente non hanno fatto insomma in altri momenti, insomma mentre l'Empoli ha rispettato tutti gli avversari insomma e la, insomma, è sentata appunto da fare per vincere tutte le partite insomma almeno fare una buona prestazione poi c'è a chi non gli è andata giù come insomma domenica, come sabato scorso ma vabbè, tant'è, quindi insomma questo campionato appunto ragazzi si, insomma termina qui termina qui una stagione insomma bellissima, spettacolare, insomma favolosa insomma gli aggettivi poi trovateli anche voi un Empoli insomma 41 punti ragazzi noi si dà insomma per scontato che l'Empoli raggiunga questo obiettivo e che rimanga in Serie A ragazzi ma insomma di scontato in questo, in questo calcio non c'è niente insomma ci sono piazze ragazzi insomma anche più grandi di Empoli insomma, insomma anche quest'anno hanno fatto appunto una brutta fine appunto vedi, vedi il Genoa, insomma il Cagliari ieri sera che insomma è andato, insomma insomma è andato in B insomma dopo 1-0-0 una salentina appunto che ha perso invece 4-0 e si è salvata, il calcio è questo però ragazzi insomma quando ti diciamo programmi hai un progetto ben preciso insomma una mentalità che alla fine insomma paga sempre l'Empoli ha questa mentalità, sa fare calcio e insomma con le sue idee appunto di gioco poi vabbè a volte pagano, a volte pagano meno però quello fa parte insomma del gioco, del giochino però insomma un Empoli insomma che merita, ha meritato appunto appunto di salvarsi alla faccia di tanti insomma che ci davano già già praticamente spacciati, quindi insomma complimenti veramente a tutti e a noi ragazzi, a noi insomma che insomma fin dall'inizio appunto si è sostenuto la squadra quando siamo potuti andare appunto allo stadio insomma con regolarità però insomma comunque io penso ragazzi che insomma questi 41 punti potevano onestamente essere anche di più perché insomma l'Empoli avrebbe potuto fare anche qualcosa in più però insomma purtroppo ci hanno negato qualche gioia un po' magari ci si è messo del nostro a un certo punto però poi ci hanno anche insomma negato con qualche episodio un po' dubbio ma insomma è appunto un Empoli che avrebbe potuto attituire anche anche a 50 punti ma insomma superare appunto la soglia dei 41 è sinceramente tanta tanta roba e ragazzi da oggi diciamo da oggi insomma da l'inter settimana appunto si insomma si si volta pagina, si volta pagina ragazzi con anche insomma con quel pizzico insomma un po' un po' appunto di dispiacere perché quando insomma termini una bella stagione così insomma non è mai bello insomma lasciare insomma i giocatori però comunque insomma la maglia la maglia e i colori sono sempre quelli e rimangono e non si cambiano però insomma dispiace lasciare appunto un gruppo così ragazzi un mister che insomma ragazzi adesso è arrivato appunto il momento delle decisioni una squadra appunto che verrà insomma quasi completamente rinfondata ragazzi insomma tante feste che andranno via ragazzi giocatori appunto da riscattare che però bisogna appunto vedere in base insomma un po' anche al budget che l'Empoli vorrà mettere insomma una squadra appunto da rifare e non sarà semplice appunto a Cardi avrà il suo bel da fare sempre che appunto ragazzi qui c'è il primo nodo della stagione appunto se appunto a Cardi sarà sempre il DS dell'Empoli ragazzi e qui appunto poi da lui difenderà anche il futuro del nonno Andrea Zolli ragazzi appunto se a Cardi dovesse rimanere ad Empoli il nonno secondo me rimarrà anche lui al contrario appunto se a Cardi dovesse andare via perché appunto dovesse ricevere un'offerta migliore anche la posizione appunto del nonno potrebbe un po' travallare però io penso che insomma ragazzi io insomma credo che l'Empoli possa trattenere e voglia tenere tutte e due insomma ragazzi a Cardi speriamo rimanga perché insomma ha fatto delle belle cose a volte bene a volte un po' meno bene e il nonno Andrea Zolli è stato appunto uno dei protagonisti di questa salvezza fosse per me appunto lo confermerei anche perché insomma poi ragazzi chissà anche da prendere a posto suo non si sa e poi ragazzi appunto una volta sciolti questi due nodi ma secondo me questi insomma a breve brevissimo verranno sciolti non come l'anno scorso con insomma chi sapete voi che non si è comportato bene una volta appunto sciolti questi due nodi io penso insomma che l'Empoli inizierà subito a fare a fare mercato appunto comunque al piano che ripartirà prima quest'anno già appunto per Ferragosto quindi insomma un Empoli che insomma dovrà darsi da fare fin da subito ragazzi ricostruire la squadra insomma portiere difensori l'attacco completamente appunto da rifare qualche ritocco anche al centrocampo capire appunto se i giovani come viti insomma se rimarranno verranno appunto trattenuti o se si cederanno in casa appunto che arrivassero delle offerte importanti vedremo saranno appunto ragazzi dei insomma un paio di mesi belli caldi e io insomma comunque vi terrò sempre aggiornato su tutti i movimenti insomma con nuovi video ragazzi insomma non me ne vado via non scappo voi insomma seguitemi sempre like al video commentate condividete ed iscrivetevi e oggi come sempre forza Empoli forza Azzurri buona estate a tutti alla prossima ciao